...di tutti, oppure è stata la mancanza di un attaccante vero che diceva che è stato poi la squadra in campo? Quale vuole perché? No, ma penso che sia più la prima, cioè ha giocato anche il tramonto senza l'attaccante di ruolo, no? Però sono sempre luoghi comuni perché quando giocavano si diceva il contrario, che è inutile quando non c'è. La verità è che ci sono stati superiori e ci sarebbero stati superiori a prescindere con qualsiasi tipo di racconto in campo. Invece volevo dirti, il gioco degli esterni, quando non c'è l'attaccante centrale, dice poi che c'è tanti cross che non prende nessuno, quindi ci deve essere più iniziativa personale quando non c'è l'attaccante di riferimento? No, penso che una partita come domani, diciamo, è una personale molto importante. Ogni partita è diversa, certo, però fino a se con questa personalità perché così se vincere più, no? Buon carattere. Sì.